Pettorale 442, Pini Marco con bolla, si prepari Pizzaru Monica, Pucci Michele, Rivaldi Nicoletta e Rinaldi Lionello no, Salice e Sancho Rinaldi passa in fondo Sì, è che fosse una volta un'altra parte per parte di Pettorale però se s этоimo una volta un'altra parte Bessere un'altra parte di Pettorale non c'è non c'è che si io non c'è che sia che sia dai marco dai